Mi chiamo Annerina Sabrina, ho quasi 37 anni, abito in Val di Susa. Assisto anziani oppure persone che hanno bisogno, un po' faticoso e nello stesso tempo mi riempie di emozioni e mi aiuta anche ad esprimere il meglio di me. Sì, lo consiglierei a tutti, cioè qualsiasi persona potrebbe farlo, non solo per il lavoro che faccio io ma anche per altri lavori, visto che è una cosa regionale lo possono fare tutti. Puoi mostrare anche la tua passione, tipo ti piace il giardinaggio, fai anche quello sul giardinaggio e ti piace fare il mio lavoro che è assistente familiare e quindi mostri il piacere di aiutare le persone. Grazie a tutti!